Buonasera. Dopo gli straordinari successi di Roberto Benigni legge la Costituzione e Shel Shapiro canta la Costituzione, Cepaset è pronta per scendere in campo con una serie di grandi superospiti, di seguito l'elenco dei prossimi interventi, solo su Cepaset. Roberto Bolle balla la Costituzione. Dolce e Gabbana fanno l'orlo alla Costituzione, Benedetta Parodi cucina la Costituzione, Bud Spencer mena la Costituzione, Cesar Millen a destra la Costituzione, Bruno Vespa lecca la costituzione, Maggie Simpson ciuccia la Costituzione, Giovanni Allevi suona la Costituzione, Giovanni Mucciaccia ritaglia la Costituzione, Jill Cooper allena la Costituzione, Marcel Marceau Mima la Costituzione, Giorgio Mastrota vende la Costituzione, Max Giusti apre la Costituzione, Maurizio Crozza imita la Costituzione, la Costituzione si costituisce. Buonasera.